C'è acqua nella benzina. In misura tale che diversi automobilisti che nelle ultime ore hanno fatto rifornimento in città sono rimasti in panno, comunque hanno riscontrato problemi tali che ne hanno reso necessario un passaggio in officina per far dare un'occhiata alla macchina. L'allarme è scattato sui social in mattinata, ha fatto velocemente il giro della città arrivando anche alle orecchie della Guardia di Finanza. La foto messa in rete da un meccanico spezzino di tre bottiglie di plastica con campioni di benzina mista d'acqua prelevati da tre automobili che avevano riscontrato problemi al motore dopo il rifornimento avrebbero fatto scattare i controlli da parte della Finanza. Controlli che in realtà per le fiamme gialle sono routine in quanto effettuati periodicamente tant'è che nel corso della giornata più di un automobilista ha notato pattuglie delle fiamme gialle nei pressi dei distributori. In ogni caso se ci fossero problemi il consiglio che danno le associazioni dei consumatori per procedere ad un eventuale rimborso del carburante del danno arrecato all'autovettura è quello di conservare le ricevute di rifornimento in modo tali da poter aprire una procedura di sinistro. Il problema resta però quello di determinare con esattezza chi ha provocato materialmente il danno perché non è detto che il guasto sia imputabile necessariamente al distributore nel quale si è effettuato l'ultimo rifornimento.